Siamo nell'8-6, quello che riguarderà la parte dedicata al tempo libero, alle attività sportive, alle attività ludiche, ai luoghi di aggregazione e socialità. Saranno inoltre messi a dimora oltre 10.000 alberi con la realizzazione dunque di un vero e proprio bosco urbano con percorsi ciclopedonali. Sopralluogo questa mattina del sindaco Vitoleccese degli Assessori allo sviluppo economico, lavori pubblici all'ambiente e rigenerazione sociale urbana sul cantiere dell'8-6, identificato come Parco Bellavista, che fa parte del più ampio programma di generazione urbana di Costa Sud. Ci sarà un campo di calcio ad 11 regolamentare in erba sintetica, un campo di calcio a 9, ci saranno due campi da tennis in terra battuta, ci sarà pickball, ci sarà una flat per lo skate, curve panoramiche per bicicross, un playground, insomma chi vorrà praticare sport qui lo potrà fare. Dobbiamo concludere le lavorazioni entro la primavera del 2026, i lavori vanno spediti da cronoprogramma, non si risultano nessun tipo di ritardi. Ricordiamo a tutti che è un'opera importantissima, sono 15 ettari solo questo campo Bellavista, per un chilometro di profondità dalla via Gentile al fascio dei Binari. E ci sarà anche un anfiteatro in pietra naturale incassonato nei percorsi ciclopedonali con muretti a secco, insomma uno spazio di cui poter fruire 365 giorni l'anno. Una vera e propria anticipazione del piano urbanistico generale, dichiara la vice sindaca Giovanna Iacovone, che parla anche di rigenerazione. Io credo che questo progetto di Costa Sud sia proprio l'emblema dell'idea del nostro Pug, ed infatti come sapete è un progetto di anticipazione, perché incarna esattamente l'idea di rigenerazione che il Pug farà in questa città.